La via del benessere tra terra e cielo dare la possibilità ad ognuno di noi di sentirci parte dell'universo, di non sentirci soli con i nostri disagi, i nostri malesseri, le nostre malattie, ma parte di un tutt'uno. Questo ci dà l'indicazione di quale possa essere la potenzialità della terapia con i fiori di Bach, a cui io mi sono appassionata già ormai da un decennio, e cioè quella praticamente di una terapia che veramente si prenda cura dell'uomo nella sua globalità, nella sua interezza, nella sua totalità. Io ho incontrato questa terapia di fiori di Bach, tra virgolette, per caso, seguendo un seminario, e ho fatto studi accademici assolutamente diversi, però ho iniziato questo percorso con grande passione, soprattutto con grande interesse per la vita di Eduard Bach, che mi ha entusiasmato al punto da farmi poi iscrivere ad un corso di naturopatia, e a partecipare a seminari, ad approfondire l'argomento su vari testi, e adesso diciamo in un qualche modo a diffondere, ecco, ad essermi presa proprio a seguire questa missione di diffondere il pensiero di Eduard Bach, attraverso anche dei corsi, infatti insegno questa materia a Napoli, nella mia città, io sono di Napoli, alla Fondazione Humaniter ormai appunto da un decennio, da quando ho incontrato questa disciplina, e poi pian piano appunto l'ho approfondita, e poi diciamo anche attraverso consulenze per chi chiede aiuto. Ma non è necessario questo anche, diciamo, ecco, l'unicità e la novità della terapia con i fiori di Bach è proprio questa, e cioè il fatto di dare la possibilità a ciascuno di noi di essere autonomi e di poterci prendere in mano anche, diciamo, la responsabilità della nostra guarigione, del nostro benessere. In che modo l'astrologia si lega alla floriterapia? Allora, questa in effetti è un'intuizione che ebbe già Eduard Bach, e diciamo che per comprendere il significato bisognerebbe, diciamo, andare un po' alle origini, alla prima edizione del suo libro, poi l'unico forse che c'è rimasto, i 12 guaritori, perché egli ebbe appunto, perché lavorò proprio sulle tipologie umane, cioè la sua ricerca sui 38 rimedi in effetti partì proprio dalla conoscenza, dall'approfondimento dell'animo umano e delle varie tendenze emotive, si intuì, soprattutto dopo aver scoperto i primi 12 guaritori come lui li definì, appunto perché corrispondevano, secondo lui, alle 12 tipologie base caratteriali, gli venne spontanea, gli venne intuitiva la corrispondenza, la possibilità di utilizzare lo strumento astrologico per avere una chiave di lettura in più nella prescrizione del rimedio. Diciamo che si sa che Bach fosse molto inserito anche nell'ambiente esoterico, si sa che lui era iscritto alla loggia massonica di Londra, che era la loggia massonica più importante, e che quindi era avvezzo a queste materie, solo che il suo rigore scientifico, il modo con cui lui ha sempre eseguito, diciamo, la ricerca in questo senso, lo portò, come poi risulta, da alcuni scritti che lui ci ha lasciato, da alcune lettere soprattutto indirizzate ad un suo allievo, Peter Damian, lasciò ad altri la possibilità di approfondire questo campo, perché si rese conto di non avere il tempo e la possibilità di andare fino in fondo nella ricerca di questa assonanza, di questa possibilità. Per cui, ecco, non è un'invenzione assolutamente né mia che ho approfondito, diciamo, questo aspetto e diciamo che personalmente sono stata molto affascinata da questa possibilità, perché ho incontrato i fiori di Bach, questa esperienza per me è stata quasi contemporanea ad un'altra esperienza che io ho fatto e ho seguito di un corso di astrologia evolutiva e quindi ho notato come il fatto di conoscere a priori, diciamo, il tema di nascita di una persona mi dava la possibilità di entrare immediatamente in un rapporto empatico con la persona, di comprenderne, diciamo, le dinamiche e le energie di base, di comprendere gli eventuali punti di forza e gli eventuali punti di debolezza attraverso l'interpretazione dei pianeti, delle posizioni dei pianeti, degli aspetti, dei punti più importanti che riguardano l'interpretazione di un tema natale. Sono contentissima di essere qui stasera per presentare il mio libro perché ritengo che questo della libreria esoterica di Milano sia il contesto migliore, forse il migliore da tutti i punti di vista, per la storia che c'è alla libreria e per l'atmosfera, diciamo, anche amichevole che c'è. Quindi saluto tutti con vera, con simpatia, con stima e mi fa piacere che cada anche nel giorno della festa delle donne perché sicuramente è un'occasione, anche questa, diciamo, forse speciale per presentare il mio libro.